Buonasera a tutti, con questo video mi presento, sono padre Paolo Gamberini, sono un padre gesuita e sono stato contattato appunto da Stefano Polcese dell'Associazione Liberare l'Uomo di Treviso per offrirvi alcune riflessioni su di un tema che trovo quanto mai interessante Fisica, Metafisica, Mistica, Conoscere l'oltre tra i confini Mi rivolgo innanzitutto a tutti i membri di questa associazione e quindi vi do l'augurio che questo video che vi trasmetto sia per voi chiaro che possa stimolare la vostra riflessione personale e anche di associazione è un tema certamente molto interessante anche perché stiamo vivendo un periodo epocale come più volte Papa Francesco ci invita così a identificare questo nostro tempo. La proposta che faccio è quella di trasmettervi un PowerPoint commentato da me, cercherò di essere quanto mai chiaro, esplicito, con immagini che certamente potranno aiutare meglio per quanto è possibile la vostra comprensione. Ho un suggerimento, quando avrete questo video vi invito a riguardarlo, a fermarlo, a riflettere e a prendervi a punto così che in un momento successivo possiate anche formulare le vostre domande. Vi do un buon augurio di ascolto e anche di approfondimento della tematica che vi sto per presentare. Grazie. Possiamo allora iniziare con la nostra presentazione. Il titolo fisica, metafisica, mistica, conoscere l'oltre tra i confini. Ho scelto queste tre discipline perché sono quelle che a mio viso oggigiorno stanno vivendo una rinascita, ma specialmente nel modo con cui queste tre discipline scienza, filosofia e spiritualità, potremmo anche dire, stanno vivendo un'epoca di interdisciplinarietà. E vorrei proprio partire da quanto ha affermato una filosofa nell'avvenire, il giornale Avvenire, il 29 maggio scorso, questa filosofa è Olga Pompo, la quale così riassume quanto vuole in questo articolo dire a proposito del pensare oltre i confini delle singole discipline. Pensare vuol dire infatti, secondo Olga, allargare i confini. Non è dunque un'occasionale convergenza nel lavoro di esperti di discipline, cioè abbiamo lo scienziato che fa il suo lavoro, il filosofo che fa il suo e c'è il teologo o chi si interessa di spiritualità che ha in mano appunto la Bibbia, il filosofo ai testi sacri della filosofia antica, moderna, contemporanea, e lo scienziato ha i suoi esperimenti, i risultati delle sue verifiche. Ciascuno fa il proprio lavoro. Ecco, dice qui Olga, non è dunque un'occasionale convergenza nel lavoro di esperti di discipline diverse che ci farà trovare preparati di fronte alle emergenze planetarie. Abbiamo una situazione planetaria, immaginiamo il riscaldamento del pianeta, ma molte altre questioni come anche la diffusione della povertà, la disuguaglianza sociale che si allarga. Bene, queste situazioni di emergenza richiedono una collaborazione, una convergenza, non soltanto per il momento, ma sistematica, e per questo bisogna ripensare appunto queste tre discipline, cioè la scienza, la filosofia e la spiritualità, ripensarla in una radicale interrelazione, ma un'autentica vocazione interdisciplinare che permette di scardinare la logica stessa di mondi paralleli. Ecco perché è necessario questo momento, che è certamente un'occasione che sta richiamando le varie discipline insieme, ma deve proiettarsi per un futuro di necessaria interdisciplinarietà. L'interdisciplinarietà corrisponde a una nuova situazione epistemologica, un movimento cognitivo che esprime la necessità di superare il regime analitico di una scienza riduzionista. Qui vedete già che questa mancata interdisciplinarietà ha fatto sì che ogni scienza si sia di fatto implosi in se stessa, in un riduzionismo, come se fosse l'unica disciplina dello scibile, con un programma in grado di accedere, affrontare un livello più profondo e complesso della realtà. Qui allora la prospettiva è che questo livello più profondo della realtà può essere conosciuto, certamente nella distinzione di ogni singola disciplina, però in una attenzione a una radicale collaborazione tra i vari saperi. Allora possiamo subito partire da una domanda che riguarda la spiritualità. In quale Dio credere? Bene, qui ci può aiutare dal punto di vista anche epocale quanto affermò Dietrich Bonhoeffer in Resistenza e Resa. Così egli dice, si è visto che tutto funziona anche senza Dio e non meno bene di prima. Come vedete già qui evidenzia quanto era presente nell'ambito della scienza, esattamente come nel campo scientifico anche nell'ambito generalmente umano, quindi ha un atteggiamento che non riguarda solo la scienza, ma si sta diffondendo la secolarizzazione a tutta la società umana. Dio viene sempre più respinto fuori dalla vita e perde terreno, quindi quel Dio così come la spiritualità lo vivevo o la teologia, la religione lo stavano vivendo, questo Dio è insignificante sia per la scienza ma anche per la vita umana. Contro questa sicurezza di sé l'apologetica cristiana è scesa in campo in diverse forme. Quindi di fronte a questa marginalizzazione della religione c'è stato una specie di contrattacco da parte dell'apologetica cristiana e anche cattolica per ribadire la necessità di Dio nel dialogo con le scienze. Si cerca appunto di dimostrare al mondo divenuto adulto che non può vivere senza il tutore Dio. Ecco, vedete qui com'è chiaro in questa affermazione di Dietrich Bonhoeffer che c'è un'idea di Dio come tutore, come il sostegno necessario affinché l'uomo possa crescere. Bonhoeffer indica lo stato di adultità, di maturità, di un'uscita dall'essere sotto la tutela della religione e quest'uscita per Bonhoeffer è un fatto positivo, non un fatto negativo. Sempre Bonhoeffer, così il nostro diventare adulti ci conduce a riconoscere in modo più veritiero la nostra condizione davanti a Dio. Infatti Dio ci dà a conoscere che dobbiamo vivere come uomini capaci di far fronte alla vita senza Dio. Quindi vedete come Dietrich Bonhoeffer ha reso possibile con questa sua affermazione riconoscere l'autonomia della scienza e quindi l'autonomia della vita umana nei confronti di Dio. Il Dio che è con noi è il Dio che ci abbandona. In un certo senso perché l'uomo possa diventare adulta è necessario che si sottragga da una presenza invasiva, questo non solo nell'ambito dell'umano ma nell'ambito anche della conoscenza umana. Da un lato Bonhoeffer riconosce l'avvento dell'uomo diventato adulto, ossia l'arrivo dell'epoca dell'autonomia del soggetto moderno, il quale ritiene di poter fare a meno di qualsiasi realtà trascendente. Dall'altro egli si accorge, Bonhoeffer, del fatto che la marginalità della religione nel mondo, diventato adulto, lascia posto a una caricatura di Dio, il Dio tappabuchi. Ecco, questa figura prima parlava di Dio tutore, un Dio che interviene a sostenere l'uomo e tutte le volte che c'è qualche bisogno, qualche buco nella conoscenza umana interviene lui come mistero per risolvere tutti i problemi, tutti i casino dell'umano. Bene, questa è una caricatura di Dio e l'apologetica, cioè la religione che vuole difendere il proprio statuto, non deve cedere a questa tentazione. Perché se cede, finisce Dietrich Bonhoeffer in questa sua affermazione, il cristianesimo religioso sarà destinato al declino e alla irrilevanza. Possiamo così vedere con questa immagine che cosa è Dio, come viene pensato Dio all'interno di questa visione di Dio tappabuchi, è come se mancasse un ingranaggio nel mondo contemporaneo e la religione, il Dio della religione sarebbe appunto l'ingranaggio mancante. Allora, se lasciamo andare questo modo di intendere la religione, di intendere il Dio della religione, in quale Dio allora credere? Quanto è importante, a questo punto, conoscere il creato per conoscere Dio. Questo ce lo dice la nostra tradizione cattolica, la quale ha sempre sottolineato come la conoscenza di Dio è già data nell'ambito di quella che veniva chiamata la teologia naturale, benché imperfetta, benché incompleta, tuttavia abbiamo già un punto di riferimento nella contemplazione della natura. Così come un'idea sbagliata di Dio può rovinare una vita. Davide Maria Turoldo riprende questo pensiero dicendo credere un Dio sbagliato è il più grande disastro che possa capitare e Tommaso d'Aquino molto tempo prima così diceva. L'errore circa le creature si ripercuote in una falsa idea di Dio e porta il pensiero umano lontano da Dio. Quindi vedete come l'attenzione, l'autonomia del saper umano, riconoscere lo statuto epistemologico della scienza, la sua autonomia, è necessario per avere una corretta idea di Dio. Quindi la scienza non è nemica della religione, non è nemica di Dio, ma sarà un certo modo di intendere la scienza come assoluta detentrice della verità, così come un'assoluta visione della spiritualità o della religione che vede se stessa come regina ingombrante di tutto. Ecco qui abbiamo due immagini che possono un po' riassumere l'attuale situazione della comprensione. Abbiamo a destra l'idea del Dio che sta in alto dei cieli, fuori dal mondo, che scruta, osserva, controlla non soltanto l'evolversi della natura ma anche l'evolversi delle condizioni, delle situazioni umane. E' un Dio esterno, un Dio fuori dal mondo e questo essere fuori dal mondo gli permette di giocare dentro al mondo a suo piacimento. E' un po' questa una caricatura certamente, ma una certa visione possiamo chiamarla teista, lascio stare la questione teismo classico, teismo personale, ma una caricatura del altesimo può vedere Dio così, cioè fuori dal mondo e dal fuori dal mondo che controlla il mondo intervenendo di volta in volta per aggiustarlo. A sinistra invece vedete quest'altra immagine che raffigura una visione in cui il mondo è all'interno della vita, qui è un mondo che sta per nascere, che deve dire alla luce, in cui allora la divinità viene vista non più come qualcosa di esterno, ma come una realtà che include il mondo stesso all'interno di se stesso, l'infinito che è incluso nell'infinito. E questa visione è un po' rappresentata dal termine panenteismo. Pan vuol dire tutto, en vuol dire inteismo, vuol dire dottrina di Dio, una visione di Dio in cui in Lui, nel suo essere, sono tutte le cose. Pan en teismo. Interessante quanto Papa Francesco esprime nella Laudatosi al numero 80, dice il Papa in questa sua enciclica. In qualche modo Dio ha voluto limitare se stesso creando un mondo bisognoso di sviluppo, dove molte cose che noi consideriamo mali, pericoli o fonti di sofferenza, fanno parte in realtà dei dolori del parto che ci stimolano a collaborare con il creatore. Vedete qui un'immagine dinamica della realtà. La realtà, il creato, è in via di farsi. Dio fa sì che le cose si facciano, ripete sovente Carlo Molari, ma prendendo una frase di Teilhard de Chardin. Così prosegue il Papa. Dio è presente nel più intimo di ogni cosa senza condizionare l'autonomia della sua creatura. Vedete come qui il modello che precedenti dicevo, cioè non di un Dio esterno ma nel più intimo di ogni cosa, è assunto come modello interpretativo anche in questo testo della Laudato Si. E anche questo dà luogo alla legittima autonomia delle realtà terrene. Quindi sposa qui l'enciclica una visione, potremmo dire bonoferiana, della realtà umana e quindi anche della scienza. Questa presenza divina che assicura la permanenza e lo sviluppo di ogni essere è la continuazione dell'azione creatrice. La creatività di Dio quindi è continua, continua a creare ora in questo momento Dio, non in un momento che potremmo quasi identificarlo con il Big Bang, no? La singolarità del Big Bang non ha nulla a che fare con la continua creazione di Dio. Lo spirito di Dio ha riempito l'universo con le potenzialità che permettono che dal grembo stesso delle cose possa sempre germogliare qualcosa di nuovo. È una creatività questa che non è nemmeno esterna alle cose, ma Dio creatore ha dotato di creatività le cose stesse. Quindi è un punto di riferimento questo numero 80 del Laudato Si. Possiamo a questo punto riassumere con questo grafico i tre modelli con cui è stato compresa la relazione tra Dio e il cosmo. Il primo modello è quello teista, dicevo, in cui il cosmo è separato da Dio, quindi è altro da Dio e Dio è dal cosmo. C'è la visione panteista in cui c'è un'identificazione tra Dio e cosmo, tutte le cose sono Dio, e il modello che propongo è il modello che prima accennavo, panna e enteismo, tutte le cose in Dio in cui c'è sì una identificazione tra Dio e cosmo, ma questa identificazione è relativa, ecco perché avevo richiamato anche il modello della relatività einstaniana. Il cosmo è tutto riferito a Dio e quindi è strutturalmente relatività a Dio, ma allo stesso tempo questo cosmo non è fuori di Dio, ma è la stessa vita di Dio. E' questo il modello panna e enteista. Andiamo al secondo punto, il cambio di paradigma. Come potete vedere, il cambiare paradigma, qui vedete il cambiamento che c'è stato nell'evoluzione della macchina, è strutturale alle cose. Qui abbiamo l'evoluzione del telefono e così anche nella visione del mondo. Siamo passati da un geocentrismo in cui la Terra è collocata, come vedete qui, al centro, sotto la Terra ci sono gli inferi e poi c'è questa immagine del cielo al di sopra della Terra e vedete appunto questa visione tripartita della della realtà il cielo, la Terra e sottoterra. Questa visione dentro la quale tutta la Bibbia è pensata, tutte le immagini, tutte le possiamo dire le raffigurazioni bibliche, le stesso Nuovo Testamento, la venuta dal cielo di Dio, la nascita, il suo vivere con noi, Gesù di Nase, la sua discesa all'infra e poi le apparizioni e ritornare appunto sulla Terra per avere l'ascensione in cielo. Ora questo modello non è più il nostro modello attuale, è come se noi volessimo ritornare a andare in giro per il mondo con il primo modello, quello più in basso di auto, o telefonare con questo primo modello. Siamo passati ad una visione successiva anche a livello cosmologico, ma il livello cosmologico è poi stato già superato, egliocentrico, con questa visione che vedete più presente di una visione dell'universo che è in espansione. Quindi abbiamo il cambio di paradigma è presente sempre in ogni tipo di sapere. Così si esprime Stuart Kaufman, è interessante, questo cambiamento di paradigma porta anche a un ripensare il sacro. Così dice questo biologo, se nessuna legge di natura è sufficiente per descrivere l'evoluzione della biosfera, cioè della vita, dell'evoluzione tecnologica, della storia umana, che cosa prende il suo posto? Non c'è più il Dio che dall'esterno interviene. Chi prende il suo posto? Così è la risposta di Stuart Kaufman, una meravigliosa creatività radicale senza un creatore soprannaturale. Vedete qui come traduce questo autore, diceva appunto un biologo, questa visione del sacro, del divino. Affacciatevi alla finestra e guardate la vita che brulica. Semplicemente il sole splende da quasi cinque miliardi di anni e la vita ne ha compiuti 3,8 miliardi di anni. La vasta riva lussureggiante di vita, per rievocare la celebre espressione di Darwin, è nata con le sue sole forze, il principio dell'autonomia a cui faceva riferimento il Papa. Questa trama della vita, è qui importante il concetto di trama, di matrice, il sistema più complesso che conosciamo nell'universo non viola alcuna legge della fisica, eppure a contempo senza legge incessantemente creativa. Qui accanto vi ho messo questo mare che si muove in continuazione, che manifesta, esprime questa vita, questa creatività. Ciò vale anche per la storia dell'uomo e per la vita umana. Questa creatività è sorprendente, terrificante, non possiamo ignorarla. E così conclude Stuart Kaufman. Una concezione di Dio è che Dio è il nome da noi scelto per questa incessante creatività dell'universo naturale, della biosfera e delle culture umane. Qui è ben espresso appunto da questo autore come l'idea del divino si è aggiornata, se così possiamo dire. Quindi c'è un cambiamento di paradigma anche nel modo di intendere Dio. Di questo cambiamento, di questa dinamicità, già ne parlava il concilio Vaticano II nella Gaudium Espesa, al numero 5. Così il genere umano passa da una concezione piuttosto statica dell'ordine delle cose, e possiamo pensare le cose sono fisse a una natura statica, Dio che ha fissato tutte queste le leggi statiche anche della natura, che Dio a suo piacimento può correggere, poi non si sa per quale motivo debba correggere qualcosa che lui ha creato, ma certamente c'è un intervento divino. No, questa visione statica è superata, dice il concilio Vaticano II, da una concezione più dinamica ed evolutiva, dall'imperfezione verso la perfezione sempre maggiore. Ciò favorisce il sorgere di un formidabile complesso di nuovi problemi che stimola ad analisi e a sintesi nuove. Le sintesi vuol dire che le varie discipline, scienza, spiritualità, metafisica, filosofia, sono chiamate ad arrivare ad una sintesi nuova, proprio in una forma quasi di contaminazione, di meticciato, di porosità. Queste scienze, queste filosofie, queste varie teologie vivono nell'epoca attuale un rapporto di correlazione, di interrelazione. Ho usato qui il termine appunto di meticciato epistemologico. Passiamo ora al terzo punto, le sfide della fisica quantistica. Cercherò allora lentamente di entrare in ogni singolo sapere, far vedere i rapporti con gli altri saperi. Fisica quantistica è la teoria fisica che descrive il comportamento della materia. Ecco, questo è già importante. La fisica quantistica non studia e non si interessa tanto di definire che cos'è la materia, ma di come si comporta la materia, della radiazione, le reciproche interazioni delle varie particelle, con particolare riguardo ai fenomeni caratteristici della scala di lunghezza o di energia atomica e subatomica, dove le precedenti teorie classiche risultano inadeguate. Quindi, specialmente nell'ambito infinitamente piccolo, la fisica quantistica sta veramente dischiudendo nuove conoscenze. Ritorno a sottolineare che l'oggetto proprio della fisica quantistica è quello di studiare il comportamento della materia. Qui, in questo schema, vi faccio vedere il rapporto che c'è tra la fisica classica, la fisica di Newton, e la fisica quantistica. Qui vi ho messo due autori rappresentativi, proprio perché sono quasi padri fondatori della fisica quantistica, Niels Bohr e Max Planck. Per la fisica classica la realtà fondamentale è costituita dall'atomo. Quindi, se volessimo dire riduciamo allora al minimo la realtà, abbiamo che cosa? L'atomo. E questo atomo è fatto di materia. La fisica quantistica va oltre all'atomo, è entrata dentro all'atomo e ha visto questa realtà subatomica, costituita di elettroni, protoni, neutroni, ma anche questi non sono l'ultima realtà perché sono di fatto costituiti di quanta. E qui, a questo livello di quanta, gioca il rapporto tra onda e particelle, quello che si chiama in fisica quantistica il collasso dell'effetto dello stato ondulatorio in quello di particelle. Cosa vuol dire? vuol dire che nel momento in cui osservo la realtà che è di fatto costituita di interazioni, io fisso queste interazioni in un punto e questo è appunto il collasso dall'onda che è indeterminata ad una particella e questo collasso dell'effetto onda è determinato appunto dall'osservatore. questo elemento, appunto questa correlazione tra realtà osservata e osservatore, ha fatto sì che i teorici della fisica quantistica abbia inteso appunto la realtà sempre più come costituita di campi di interazione. Possiamo dire allora che, a differenza della fisica classica, dove l'ultima realtà esterna era considerata la materia, questa realtà nella fisica quantistica sempre più viene vista come una correlazione, dove l'osservatore gioca sempre più un ruolo in alcuni casi di primato, cioè la consapevolezza, la connessione, la dimensione quindi dello spirito per molti fisici teorici, qui vi ho citato appunto Max Planck, è uno di questi, la consapevolezza gioca il ruolo primario nell'ambito della fisica quantistica. Non c'è una realtà in assenza di osservazione, l'osservazione crea la realtà. Certamente questa è un'affermazione data da teorici della fisica quantistica, ma che dice bene l'attuale questione di come approcciare la realtà. L'approccio della realtà sempre più viene vista come un approccio in cui la dimensione dello spirito, della consapevolezza, non è estrinseco ma intrinseco ad essa. Qui in questa immagine vi faccio vedere graficamente come la realtà di questa interazione è costituita, quindi viene chiamato questo i campi quantici. Sarebbe questo una fotografia, se così volessimo dire, delle interazioni della materia. Riassumendo, allora abbiamo visto che la materia non è più l'ultimo approdo della realtà, ma oltre alla materia abbiamo gli atomi, oltre agli atomi le particelle subatomiche, oltre a questo le vibrazioni di energia, parlavo prima dello stato ondulatorio, abbiamo visto anche prima l'immagine grafica di questo movimento, ciò che viene chiamato campo unificato della realtà, e sta emergendo sempre più anche il termine di vuoto, cioè di potenzialità della realtà stessa. E questo vuoto, teorici della fisica quantistica, identificano sempre più con la consapevolezza, ed è questa consapevolezza che si esprime nella sua dimensione di esteriorità in queste varie manifestazioni. Quindi la materia vista come una espressione della consapevolezza. Potremmo anche utilizzare il termine una rappresentazione della consapevolezza. Dal punto di vista della spiritualità, allora, possiamo parlare di una divina consapevolezza, che è questa consapevolezza cosmica, o questa consapevolezza originaria, che creatrice e continuamente creatrice di una realtà che è campo quantico, che è correlazione continua di tutte le cose. La creatività divina che si esprime appunto nella creaturalità del cosmo. Potremmo allora capire perché Teilhard de Chardin, nella sua indagine, nella sua ricerca, certamente anche con toni mistici, abbia parlato di questo movimento di unificazione di tutte le cose mosse appunto dall'amore. Perché l'unificazione verso il punto amore, il punto omega, è proprio una modalità con cui si esprime l'amore. L'amore non è altro che spirito, lo spirito è principio di unificazione. Questo spirito creatore, questa creatività divina, che sta unificando, creando, muovendo tutta la realtà verso sempre una maggiore complessità. Allora, così passiamo al quarto punto, le sfide del biocentrismo, dove si vuole esprimere proprio questa interrazione tra la vita, il bio, e la soggettività, la consapevolezza. È interessante che a questo livello, in un testo apparso sulla civiltà cattolica due anni fa, già ci si chiede come questa relazionalità possa di fatto essere presente nella stessa evoluzione umana. Così si esprime questo gesuita Johann Ferschüren. La caratteristica del nostro genoma, quindi siamo a livello di biologia, è quella di creare possibilità inaspettate di trascendere i propri limiti. Vedete qui questa potenzialità di cui parlava la fisica quantistica, di queste potenzialità di tutte le cose, eh? Di questo campo quantico di trascendere i propri limiti. È dinamico questa potenzialità e questa autotrascendenza, andare sempre oltre, dice proprio il movimento dello spirito. E d'altra parte il nostro modo di pensare che è capace di influenzare l'evoluzione del nostro genoma. Qui vedete che c'è una interazione tra il nostro modo di pensare, quindi la nostra evoluzione mentale influenza la stessa evoluzione del genoma. soggettività e oggettività, se volessimo dire così, ma anche spirito e materia, non sono separati ma si influenzano l'uno con l'altro. C'è un principio fondamentale, e qui mi rifaccio agli studi di Robert Lanza, in un suo testo proprio dal titolo Biocentrismo, è un biologo, o questo Robert Lanza, ha formulato dei principi. Il primo principio che lui esprime di questa tendenza biocentrica è il seguente. Quello che noi percepiamo come realtà è un processo che coinvolge la nostra coscienza. Se esistesse una realtà esterna a noi stessi, dovrebbe trovarsi in uno spazio, ma lo spazio e il tempo non sono assoluti, sono solo strumenti usati dalle menti umane e animali. Voi vedete allora come in questo principio del biocentrismo non si dà un mondo esterno a noi, ma noi siamo mondo, siamo una cosa sola con il mondo. È appunto un'evoluzione del modo di concepire la vita, non più meccanica, ma coinvolgente lo stesso soggettività della consapevolezza. Il secondo principio. Le nostre percezioni interne e esterne sono collegate in modo inestricabile. Sono come le due facce di una moneta, non possono essere separate. Quindi la tesi di Teilhard de Chardin, che diceva appunto che esterno e interno sono due dimensioni dell'unica realtà. Terzo principio. Il comportamento delle particelle subatomiche, in realtà di tutte le particelle e oggetti che percepiamo, sono collegati in modo inestricabile ad un osservatore. Senza la presenza di un osservatore cosciente, esiste solamente uno stato indeterminato di onde di probabilità. Quindi vedete anche qui, di nuovo, il mondo è così come lo osserviamo. Ma dove qui, così come lo osserviamo, verrò fra poco a precisare che non si intende tanto io, tu, ei, ma che noi partecipiamo di una consapevolezza cosmica, possiamo dire di una consapevolezza originaria, e con una parola di carattere certamente spirituale, noi siamo nella mente divina e questa mente divina che avvolge tutte le cose si partecipa nelle nostre menti individuali e noi vediamo, a partire dalle nostre menti finite individuali, il mondo così come è, cioè rappresentato e lo vediamo come materia, come in uno spazio e in un tempo. A questo punto potremmo riferirci a Carlo Rovelli nel suo libro Elgoland, recentemente pubblicato, in cui lui da fisico teorico afferma che la migliore descrizione della realtà che abbiamo trovato, parla appunto dell'indagine teorica della fisica quantistica, è in termini di eventi che tessono una rete di interazioni, gli enti non sono che effimeri nodi di questa rete, quindi intende qui Rovelli la realtà come una rete di interazioni e i punti in cui queste varie relazioni si incrociano sono dei nodi, e i nodi potremmo vedere gli enti finite, le realtà finite, potremmo anche parlare di atomi, di particelle, ma la realtà nella sua sostanza è costituita di interazioni. Le loro proprietà non sono determinate che nel momento di queste interazioni, cioè gli enti, gli enti, gli atomi, non sono fissi, statici, ma sono continuamente la risultante di queste interazioni, e lo sono solo in relazione ad altro. Ogni cosa è solo ciò che si rispecchia in altre, c'è appunto un gioco di interazione. Possiamo passare al quinto punto, la comprensione della realtà. Abbiamo già visto queste due parole interrelazione, interazione, consapevolezza, come le due caratteristiche del nuovo paradigma, non solo della fisica teorica, ma anche del rapporto che la spiritualità cerca di avere con questa scienza, la fisica quantistica, ma anche con il biocentrismo. Qui vorrei rifarmi ad una questione dibattuta, specialmente nell'ambito dei teorici della fisica quantistica. Due posizioni diverse, una di Rovelli e l'altra invece del fisico Federico Fagginna. L'interazione, ci chiediamo, è consapevole? È una realtà consapevole? La risposta di Rovelli è, non c'è nulla di speciale nelle osservazioni della meccanica quantistica, qualunque interazione tra due oggetti fisici vale come una osservazione. Dunque, da fisico e da fisico teorico, dice Rovelli che la fisica quantistica si deve fermare alle interazioni. Tuttavia, in tale affermazione di Rovelli, sembra escludere dal punto di vista teorico una interpretazione soggettivo di consapevolezza delle osservazioni. Di altro avviso, invece, è Federico Fagginna, il quale, appunto, dice la fisica ci dice che anche i campi quantici devono avere sia una realtà esterna sia una realtà interna. Quindi l'origine fondamentale della consapevolezza di tutte le organizzazioni materiali deve esistere già nei campi quantici. Dunque, la consapevolezza come una realtà prioritaria è presente nei stessi campi quantici. Vedete come due teorici della fisica danno due risposte diverse sul modo di interpretare la parola osservazione. Per riassumere, potrei far riferimento a queste due immagini. Nell'immagine di destra vedete come la realtà quantica costituita di campi è la fluttuazione di vibrazione, di indeterminazione, di probabilità, le quali, una volta osservati, assumono una realtà di particella e di determinazione. È chiaro qui come i nodi in cui le varie interazioni si congiungono sono di fatto da considerarsi particelle. Il passaggio dunque da vibrazioni indeterminate a particelle determinate. Nello schema invece, nell'immagine di sinistra, vedete come materia e spirito rappresentano due modalità della realtà. Lo spirito come l'insieme di queste relazioni, cioè la relatività della realtà è spirito, ma la congiunzione, l'incrocio e il nodo di queste varie correlazioni stanno a indicare la materia, cioè la condensazione di queste varie relazioni, la determinazione. La totalità di questa è la consapevolezza infinita, dove però da precisare che la consapevolezza infinita non è soltanto la risultante dello spirito e quindi della materia, ma è oltre, c'è un aspetto di trascendenza proprio perché la consapevolezza infinita è assoluta, cioè è originaria e primaria a tutto. Passiamo ora al sesto punto, l'arduo problema della consapevolezza. È il problema di come possono realtà fisiche o stati fisici della realtà dar vita a stati mentali, ovvero la mente, la mente deriva dalla materia totalmente oppure la... ma gli stati fisici sono il risultato invece della mente, due indirizzi diversi, l'uno tutto deriva dalla materia, è detto materialismo, fisicalismo, in una forma più moderata emergentismo, cioè la mente emerge dal muoversi dalla complessità della materia, oppure l'altra visione, se la materia non è altro che una rappresentazione, dal punto di vista della mente finita, della consapevolezza originaria. Qui vi faccio vedere nello schema, vedete qui la realtà in questa sua relatività e vi faccio vedere la materia come gli stati fisici causano nella loro continua evoluzione e nella loro complessità lo spirito. Lo spirito emerge dalla materia secondo quello che viene detto una causalità bottom up, cioè dal basso verso l'altro la materia causa, lo spirito causa la realtà della mente, quindi la consapevolezza non sarebbe altro che un frutto di stati fisici che verrebbero sempre più visti in una complessità ulteriore. Sarebbe poi questo stato mentale, lo spirito, che avvirebbe come una causalità dall'alto verso il basso a causare, appunto, a influire la materia. È come se io prendessi, faccio un esempio, ho quattro lettere, C, A, N, E. Queste quattro lettere rappresentano gli stati, le varie componenti materiali. Io posso mettere C, A, N, E, ma staccate così non mi dicono niente, perché è probabile che può essere cane, può essere anche cena, cane o cena, quindi è indeterminato. Qui vedete un po' quello che diceva appunto la fisica quantistica parlando della realtà ondulatoria indeterminata. Chi è che decide se è l'uno o l'altro? È l'osservatore, per cui queste quattro lettere C, A, N, E dà vita a cena o cane. Quindi la totalità delle lettere, sarebbero tutte quattro C, A, N, E, la totalità delle lettere di fatto è indeterminata, cioè non ci dice cane, quindi è importante questo esempio per farci capire che è insufficiente dire che la materia è la realtà ultima da cui tutta la realtà deriva, proprio perché in questo modo si riduce lo spirito a materia, la novità dello spirito non emergerebbe. Ciò che qualifica la novità dello spirito non sarebbe appunto spiegata se tutto si riduce a materia. In questo modo questo è il problema difficile da risolvere, l'arduo problema della consapevolezza. Un altro esempio, se io paragono la materia al numero 5 e lo spirito al numero 10, come si fa a passare dal 5 al 10? Nel momento in cui io non riduco il 10 al 5, allora tratto la materia come se fosse appunto un cilindro da cui faccio uscire all'improvviso, in maniera magica il coniglio dello spirito. Perché il 5 possa causare il 10 è necessario appunto concepire questo rapporto tra il 5 e il 10 sottolineato dalla creatività, da una relazione creatrice. Questa relazione creatrice per cui dalla materia si passa lo spirito attraverso un movimento di autotrascendenza è ciò che viene chiamato lo spirito. A questo punto possiamo affrontare l'ultima questione, a questo punto possiamo affrontare la penultima questione verso un'unificazione di fisica, metafisica e mistica. La fisica ha al suo nucleo, nel suo nucleo centrale di riflessione, la questione della interazione della materia. Il biocentrismo pone al centro la consapevolezza in rapporto alla vita. La metafisica in particolare, ma in generale la fisica, parla della realtà ultima. Fisica, interazione, il biocentrismo, la consapevolezza in rapporto alla vita. La metafisica, la questione della realtà ultima. Infine la spiritualità che ha, come dice la parola spiritualità, suo oggetto proprio è lo spirito. Queste quattro discipline vedete che interagiscono tra di loro perché hanno tutte a che fare con la descrizione della realtà ultima come una realtà che è costitutivamente di interazione e di relatività di consapevolezza che possiamo chiamare questa consapevolezza spirito. E allora, proprio per avviarci verso questa unificazione di fisica, metafisica e mistica, possiamo vedere tre autori. Per quanto riguarda la fisica quantistica Niels Bohr, per quanto riguarda Meister Eckhart la metafisica del nulla, potremmo dire quasi una metafisica del vuoto, e Teilhard de Chardin la figura del Cristo Cosme, come dimensione mistica. Max Planck, tutta la materia ha origine ed esiste solo in virtù di una forza che porta le particelle di un atomo a vibrare e tiene insieme questo più piccolo sistema solare dell'atomo. Dobbiamo assumere che dietro questa forza ci sia una mente cosciente e intelligente. Questa mente è la matrice di tutta la materia. Qui Max Planck, vedete, padre della fisica quantistica, pone come sostrato della materia una mente creatrice, quindi una consapevolezza creatrice. Dal punto di vista della metafisica, un brano tratto dai sermoni tedeschi di Meister Eckhart, l'uno è una negazione della negazione. Sta parlando appunto di questa realtà ultima. Tutte le creature portano in sé una negazione. Dice Eckhart, l'una nega di essere l'altra. Il cane non è il gatto, il gatto non è l'uomo, quest'uomo non è quest'altro uomo. C'è una negazione che abita all'interno di ogni creatura. Dio invece ha una negazione della negazione, cioè è una negazione che abita l'essere divino ma è nell'essere divino. Quindi vedete questa visione panenteistica in quanto viene dall'essere stesso divino negata. Negazione della negazione. E qui possiamo vedere non solo il vuoto, ma la pienezza di questo vuoto che è Dio stesso. Egli è uno e nega tutto il resto perché niente è al di fuori di Dio. Chiaro qui l'allusione appunto al panenteismo. Tutte le creature sono in Dio e sono la sua propria divinità e questo significa la pienezza. Quindi ogni creatura, proprio perché è in Dio, è manifestazione, teofania, espressione di questa creatività divina. La potenzialità di ogni singola cosa creata è espressione della onnipotenza divina. Dio è un padre della intera divinità, dico perciò divinità perché là niente sgorga, niente viene toccato o pensato. Nel fatto di negare qualcosa Dio, ad esempio la bontà, ma in verità non negare nulla Dio, dunque nel fatto di negare qualcosa Dio, io concepisco qualcosa che Egli non è. E proprio questo deve sparire. Dio è uno, è una negazione della negazione. Questa visione di Meister Eckhart, questa metafisica del nulla, dischiude, come vedete, Dio nella realtà dell'ineffabile. Per quanto riguarda la mistica, ho scelto Teilhard de Chardin nel fenomeno spirituale, così si esprime questo gesuita paleontologo. Considerata nella sua interezza, nella sua totalità temporale e spaziale, la vita rappresenta il termine di una trasformazione di grande ampiezza, durante la quale quella che chiamiamo la materia si inverte, si avvolge su di sé, si interiorizza. Quindi richiama qui il termine di Federico Fagginna della consapevolezza, noi potremmo dire che l'interiorità della materia è lo spirito, laddove la materia è la sua rappresentazione esteriore. si interiorizza e nei nostri confronti l'operazione copre l'intera storia della Terra. L'evoluzione dunque è un movimento verso una sempre maggiore interiorizzazione, che è l'interiorizzazione dello spirito. Il fenomeno spirituale non è dunque una specie di breve lampo nella notte, e quindi vedete qui non c'è un intervento dall'alto dei cieli di Dio che infonde nella evoluzione materiale un principio spirituale come può essere l'anima. No, il fenomeno spirituale non è una specie di breve lampo nella notte, ma tradisce un passaggio graduale sistematico dall'inconscio al cosciente e dal cosciente all'autocosciente. Possiamo dunque parlare di quantum theology. Allora vorrei riprendere proprio quello che Papa Francesco dice in questi numeri della Laudato Si, tutto è in relazione e tutti noi esseri umani siamo uniti come fratelli e sorelle in un meraviglioso pellegrinaggio, e quel viaggio a cui alludeva anche nell'evoluzione Teilhard de Chardin, legati dall'amore che Dio ha per ciascuna delle sue creature e che ci unisce anche tra noi con tenero affetto al fratello sole, alla sorella luna, al fratello fiume e alla madre terra. Immagine questa presente nel messaggio evangelico di San Francesco. L'insieme dell'universo con le sue molteplici relazioni mostra al meglio la ricchezza inesauribile di Dio, quella ricchezza inesauribile che Eckhart esprime con la negazione della negazione, quindi attraverso il concetto dell'ineffabile. Tutta la realtà contiene in sé un'impronta propriamente trinitaria, dice il Papa. Ogni creatura porta in sé una struttura propriamente trinitaria. Quindi vedete che la struttura trinitaria è una struttura che non è soltanto fuori dal mondo, ma è la struttura stessa del mondo, non solo della totalità del mondo ma di ogni singola cosa, perché la realtà più fondamentale di tutto la realtà è la relazione. Questa relazione è originaria e non successiva ai termini stessi di relazione. Allora riprendendo la creazione di Adamo, di Michelangelo, potremmo dire che è il cosmo veramente, tutto il cosmo immagine della divinità. Questa divinità che il mistero trinitario esprime in maniera metaforica. Qui di nuovo riprendo Padre, Figlio e Spirito Santo, queste relazioni cosiddette sussistenti, le quali nel loro interno che è dato dalla divinità contengono, se vogliamo usare questo termine in maniera certamente metaforica, il creato. Il creato sussiste nella relatività trinitaria. Ultimo nostro punto, contemplazione e cambio di prospettiva. Di nuovo mi rifaccio a Maester Eckhart, l'occhio nel quale io vedo Dio è lo stesso occhio in cui Dio mi vede. L'occhio mio e l'occhio di Dio non sono che un solo occhio, una sola visione, una sola conoscenza, un solo amore. Quindi vedete qui che questa visione mistica di Eckhart, che congiunge nella sua metafisica del nulla questa realtà della identità relativa tra Dio e cosmo, è ben espressa dalla metafora dell'occhio, cioè della visione. Dio vede se stesso, ma vedendo se stesso vede anche la realtà creata. Quindi io vedo Dio, ma in questo vedere Dio vedo Dio stesso che mi vede. L'uomo che si è così fissato nell'amore di Dio deve essere morto a se stesso, qui intende Eckhart il venir meno a sentirsi, a vedersi, a comprendersi separato dalla realtà. Siamo tutti collegati l'uno con l'altro a tutte le cose create in guisa tale da non fare attenzione a se stesso più che a chi è lontano oltre mille miglia. Cioè in questa visione di Dio genitivo, soggettivo, l'uomo vede se stesso come microcosmo, come parte di questo tutto e questo tutto che è espressione della stessa creatività di Dio. Ecco perché Karl Rahner, prendendo un'espressione che ha però Raymond Panikkar come sua origine, viene ad affermare che il cristiano del futuro sarà mistico o non sarà neppure cristiano, anticipando quanto questa nostra epoca di interdisciplinarietà ci sta facendo scoprire, cioè come tutta la realtà è una rappresentazione della consapevolezza della mente divina e quindi della sostanza trinitaria. Vorrei concludere con questo numero, uno degli ultimi numeri della Laudato Si di Papa Francesco. Ogni creatura porta in sé una struttura propriamente trinitaria, così reale che potrebbe essere spontaneamente contemplata, sottolineo questo, spontaneamente contemplata, se lo sguardo dell'essere umano non fosse limitato, oscure e fragile. Questa trasformazione che avviene attraverso la vita spirituale, attraverso la meditazione, la contemplazione, è una trasformazione che amplifica la visione, è la trasformazione della nostra visione di Dio o fede in Dio, genitivo oggettivo, nella visione stessa di Dio, cioè genitivo soggettivo. Il compito appunto della vita spirituale è quella di diventare sempre più soggetto della stessa realtà di Dio, cioè diventare sempre più l'Io sono, la consapevolezza originaria in cui tutte le cose sussistono. Grazie dell'ascolto e lascio a voi il tempo per maturare, riflettendo, riprendendo queste mie riflessioni e formulando così domande.